Chiediamo al sindaco di Como e all'amministrazione comunale di Como di bloccare immediatamente l'autorizzazione per l'apertura del centro culturale islamico di via Turati 5. Sarebbe una scelta sbagliata, irresponsabile, soprattutto alla luce dei recenti arresti avvenuti nella giornata odierna. Oggi due potenziali terroristi islamici sono stati arrestati in provincia di Brescia. Pianificavano attentati terroristici in Lombardia e sui nostri territori sarebbe folle e demenziale che l'amministrazione del PD a guida sinistra autorizzasse a Como l'apertura di un centro culturale islamico. Sarebbe una scelta che metterebbe fortemente a rischio la sicurezza dei cittadini comaschi. Se ciò non accadesse la Lega è pronta a scendere in piazza per difendere Como, i suoi cittadini e la loro sicurezza.